Questo è un 5 sponte di Massè 5 sponte di Massè con la viglia che gira, con la viglia in movimento Vedete che la viglia sta girando in questo momento Ha detto che voleva vedere anche lo stratosferico, vedo? Ed è veramente straordinario, bravo Marco Bravissimo, numero uno Il titolo che ti porti sulle spalle Il titolo che ti porti sulle spalle